Ciao, come ti chiami? Marco Drago E tu hai appena partecipato? Sì Com'è andata? Bene, bene Da quanto tempo nuoti? Da pochi mesi Sì, no, pochi mesi E com'è andata? Come ti sembra la prima esperienza già a un Guinness primario? Eh, è bello, è bello Continuerai? Certo Come va? Tu vieni da Roma? Come è stato il viaggio? Abbastanza lungo e male Eh, sì, però è stata una bella manifestazione e sono contento di aver fatto tutti questi chilometri per venire qua a Padova Siete venuti stamattina? Sì E com'è? Come ti sembra a Padova? Avete fatto in tempo a fare un giro, no? Eh, no, non ho potuto fare in tempo, però spero di capitarci a vedere Padova Va bene, allora vogliamo fare un in bocca al lupo che ancora deve partecipare? Faccio un in bocca al lupo a tutti i partecipanti che sono ancora numerosissimi e speriamo di incrementare questo record Grazie 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 Grazie